Sto tenendo premuto Ok, sto registrando Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video Oggi siamo qua con un nuovo video Parla di YouTube Di quello che faremo in settembre In estate Allora ragazzi, come sapete Alcuni di voi che ci seguono A volte aspettano dei nostri video Soltanto che a volte non escono Per problemi, robe così Perché Vegas Pro Non riesce a reindirizzare il video E quindi ci sono questi problemi E ci fanno uscire dopo Giorni e giorni Quindi ragazzi, non pensate male Tipo, questi qua non hanno voglia di fare un caso Perché ragazzi, noi ogni giorno Abbiamo voglia di fare qualcosa E niente ragazzi, adesso siamo qua Come avete visto dalla visuale In un lago ragazzi Bello tranquillo E un po' di occhio Un po' di merda e tutto Però niente ragazzi Allora Tra l'altro oggi stiamo proprio registrando a manetta Abbiamo registrato tre video Ovvero il vlog della piscina La Whisper Challenge E come potete vedere Ho i miei capelli bagnati Quindi è per quello Ehm Niente direi Mi sta guardando Ma che cazzo ti gratti Aspetta aspetta Questo è Pokémon GO Fammi fare a me Questa è una Pokémon In realtà è la cosa per l'altro Troppo No, non li ho già Cazzo Oh Fitto, stiamo registrando Ma ti mangio Guarda che cazzo Iniziamo Si rivolta No, due contro due Facciamo Calci in faccia Niente raga Questi si allungano Oh Non cagare Oh Ma si sta nervosando Spacco bottiglia Amato famiglia Oddio Mi sto guardando male Vabbè raga Questo è il bè Piccolo Ma voi buiresti Babi Che Vabbia Cazzo di cazzo Ancora Ma tu di che ti tracca Non è meglio del nero Ma dici che se vengo così Non ho mai toccato nota Eh, fatti toccare Eeeh, che sei stronzo Non è in fondo purtroppo Vabbè Comunque Tornando a noi Niente Camminiamo un po' Cazzo facciamo I due si incamminarono Oh, che belle scarpe Grazie No I due si incamminarono Verso la pista ciclabile Ma come pista ciclabile Non avete la piscina Ciao bimba Dici un sacco C'è altre costiglie E' una paura Questo, questo, questo E' un sacco Molesto Stavano guardando male I bambini Stavano guardando male Certo ci pensano Scappo Ma ci diranno qualcosa No mamma Sento puzza di guai Guardate qua raga Intanto il panorama Allora a settembre ragazzi Uscirà FIFA O ad ottobre Non lo so Guardate là Allora ragazzi Come saprete A settembre Verso il 20 settembre Dovrebbe uscire FIFA 17 Quindi ragazzi Appena esce Io e Pils L'abbiamo prenotato Quindi il primo giorno Che esce Dovremmo già averlo Perciò il primo giorno Che uscirà Registreremo sicuramente Qualcosa O un pro club Oppure ragazzi Faremo la serie Della mia storia Che hanno aggiunto Su FIFA 17 E basta Per il resto Poi vedremo Pro club Ah ragazzi Beh quando Più là Faremo una sfida Ragazzi Nel senso Chi vorrà giocare Super club Anche voi fan Eh Chi vorrebbe giocare Con noi Super club Può unirsi Nella nostra squadra Che creeremo La chiameremo Pils King E chi vorrebbe entrare Vabbè Niente Faremo dei video Raga Entra Facciamo dei video Tipo sarebbe il top Tutti e 11 Crasherebbe Party Che vanno a saltare Poi ci saranno I panchinari Che dicono Voglio giocare Ragazzi In caso Vorrete partecipare In tanti Cioè Vedete voi Organizzatevi voi Perché Cioè Dobbiamo far giocare tutti Non è che Ci state sul cazzo Roba così Sì perché Soprò uno dice Ma tu hai giocato Io no Infatti Quindi ragazzi Mettetevi accordi In caso Uno non riesce Ad entrare Nella partita In cui giocheremo Vabbè Entrerà nella prossima E me lo scriverete Sotto nei commenti Chi non ha giocato E ne faremo un'altra Tanto Meno male Che per fortuna Adesso siamo 400 iscritti Quindi pochi Che commentano Quindi dai Credo che riusciamo A far venire Qualche fan Cioè Tanto la maggior parte Ci segue Nel senso Sì Noi speriamo Che i vostri video I nostri video Vi piacciono Perché Ragazzi ci mettiamo Di impegno Non è che facciamo Come i video Non è che facciamo I video a cazzo Che dal telefono Con una grafica A 60 A 60 Messa a fuoco Ragazzi Noi ci mettiamo No ma parese Dove ci sono i pantelli Eh sì Vabbè niente ragazzi Quindi Poi per il discorso GTA Adesso Stavamo Le King stavamo Pensando un po' Di diminuire GTA Perché È da un po' Che stiamo Cominciando a portare Sempre lo stesso gioco Adesso Abbiamo provato Noi ragazzi Noi lo sappiamo Che Volete i glitch Volete i glitch Di soldi infiniti Lo so Pure io li voglio Però Sinceramente È una palla Trovarli Perché Neanche gli hacker Riescono più a trovarli Ho cercato Dappertutto Niente E quindi Ragazzi Diminuiremo Un po' Più di GTA Perché nel canale Da quasi un mese Sta uscendo Soltanto GTA Stai morendo Stai morendo E Vabbè Niente ragazzi Ci vediamo Alla pista ciclavide Ok ragazzi Eccoci qua Arrivati Alla pista ciclavide E vabbè Adesso ci aspetta Una lunga camminata E c'è Fabio Rovazzi Con il trattore Intergenziale Poi c'è una ragazza Alla in fondo E niente ragazzi Adesso Ci aspetterà Una bella lunga camminata Comunque Cos'è che possiamo dire? Di agosto Diciamo Eh sì Allora ragazzi Noi non siamo Rubo Cioè nel senso Per quelli che ci seguono Tutti i giorni Ma che cazzo è il trattore? Per quelli che ci seguono Tutti i video Cioè ragazzi Lo so che magari I nostri video Ci piacciono Ci vi piacciono Soltanto che ragazzi Già Non siamo rubo Che pure in agosto Quando siamo in vacanza Possiamo fare uscire Se ok Voi direte Eh vabbè Ma registrateli prima Così siete a posto Di tutta l'estate Ma poi facciamo a registrare Un mese Di video Cioè ragazzi Un mese di video Non ci sta manco Nel computer Come a visitare il mondo Trattore Trattore Oh tu di asso Non può passare un trattore In pista ciclabile Puttana Troia Ma ne passa pure quello Vabbiamo i romanzi Dove sei? Io facciamo una cosa E spingiamo la patata Di pieno Vabbè ragazzi Dopo mi ricorre col trattore Vabbè comunque Tornando ai seri Come ho già detto Non siamo rubo Perciò Cioè usciranno meno video Tipo Alla settimana E usciranno Non so Tipo 4-5 E tantissimo Perché noi siamo in vacanza E dobbiamo editare Cioè dobbiamo stare A casa Dietro i video Per voi Quindi è una passione E Tanto non guardiamo Cioè La forte che La forte il chip Ma anche ce l'abbiamo Quindi Cioè Sì ce l'abbiamo ragazzi Però Però solo per programmare i video Per mettere le copertine Per usare quelle funzioni Cioè I soldi Anche i soldi Vabbè Non ne possiamo parlare Di soldi Perché Il nostro conto Ve lo diciamo Sarà di quanto? 5 euro 5 euro Cioè 5 euro Per le visualizzazioni Che facciamo E per Tutto l'impegno Che ci mettiamo Pure ragazzi Il game capture Quale cose là Costano E non sono cose Che dici Vabbè 2 euro No il cazzo Raga Quindi Vabbè niente Ragazzi Dovevamo parlarvi un po' In generale Della Sì quindi Della storia qua Quindi come siamo partiti Quindi se ad agosto Usciranno Se non è proprio A tuo dio È una femminatrice Figlio Quindi Urliamo Quindi Ragazzi Ad agosto Usciranno Quanti video? 5, 6, 9 Quante cazzo Usciranno Adesso ci mettiamo L'impegno Comunque ragazzi Cioè Noi ci mettiamo L'impegno per voi Però Allo stesso tempo Dovete sostenerci E poi perché Se noi scorniamo almeno 30 video In 10 giorni Cioè ragazzi È un lavoro Non è che dici Sì grazie al cazzo Non stai facendo niente È per passione Sì vabbè È passione Come andare in bici Però Ti fa il culo Con questa pista Cioè ragazzi Noi l'avamo Adesso siamo Qua Cioè Da là A qua Basti cazzo Di tratto Tutti in faccia Dai Quindi niente ragazzi Questo video Termina qua Speriamo che Le nostre parole Nessuno è stato Di qualche carimento Perché Non stiamo dicendo Cazzate E niente ragazzi Io e la lascia Speriamo Speriamo Tutti in fondo Faccio Cosa E niente ragazzi Cele Cosa A B Cosa Spergo or Per Spergo In Miros Cosa Pi día